In Cielo Eletro, forse è quello stesso, ma anche due peggiali. C'è stata una cosa, c'è stata una cosa, c'è stata una cosa e un futuro. Da parte del sindaco, come succede il resto, al prescindere la Commissione. E direi della Commissione, da quello che io ho sentito, ma forse non ha più che chiaro. A come, lei ha accettato la ricorda di Cedino e a torre della Commissione, lei ha eliminato e hanno detto. Sì! 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 Allora, che diventi, che diventi, che diventi! Io invito i fili cittadini generali anche a darmi il tuo cuore per questo allenamento del frutto di tutta la Commissione e qui avranno la presidenza della Commissione accettando il titolo del signor a liberare il diventamento per al nome del popolo e al nome del vincorio e condizioni, liberare il diventamento? E io, cosa è il tuo che è quello che ha fatto? Allora, allora, il senatore generali. Ma scusa voi che veni a fuoco 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 Inoltre, permettendo di direttore il signore del pregato, ma se lo avrebbeiuscito a reciclarle e le siete due sali, ma mi ha dato visto questo po' Ma io non so, mi trovo bene, mi trovo bene, mi trovo bene Descorto, mi trovo bene, ti trovo bene? E io devo ricerare, la presidenza della sua unità, una commissione e con l'attrovinità di migliaia di avuto Pagmischio un' Brozzino, paviva il cattavaro di Tisola, il consiglio di avere una spesa di rispettare. Il consigliere troverà, accadendo da Maureo, il discorso di San Paolo Cristo, ognuno di il momento alle imprese di amargo che incintà nel cristiano generazione. Ripetano da la decisione, ripetano da la una propizione, ripetano le del Chiesi. Ahí lo chiedono, io 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 lo chiedono. Io si non lo chiedono, io 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 lo chiedono. non c'erano tornarsi perché non facciamo di fid substitute e in causa di un 조 maggiore giornale non va nước colpa non si parla non mi pare sul verbale perché come sbagliato è il sabicismo Sì, 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 sì. Grazie a tutti.